Sostegno, garanzia che i fondi arrivino agli operatori, semplificazioni e regole chiare. Queste le richieste del mondo cooperativo-culturale espresse giovedì scorso in Commissione d'Istruzione del Senato in merito all'impatto del Covid sul settore. La Presidente di Culture Media Legacop, Giovanna Barni, ha spiegato che l'infrastruttura culturale non pubblica è stata gravemente colpita dalla crisi e non ha ricevuto al momento interventi sufficienti. Luca Pavarotti, referente di MediaCop, coordinamento editoria di Legacop, ha chiesto chiarezza sul taglio dei fondi all'editoria che pende sul settore dal prossimo 1 gennaio. Concluso l'esame in Commissione Bilancio della Camera del decreto rilancio che ha approdato ieri in aula. Via libera con riformulazione agli identici emendamenti che stabiliscono che, in considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il gestore del Fondo Patrimonio PMI potrà avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico che, solo per le cooperative, potranno assolvere le funzioni attribuite a Invitalia. Approvati anche una modifica sulla rivalutazione dei beni delle cooperative agricole e l'estensione dell'eco bonus al 110% anche alla seconda casa. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, l'atteso decreto legge sulle semplificazioni che contiene norme su appalti, digitalizzazione della pubblica amministrazione e modifiche ad abuso d'ufficio e danno erariale. L'articolo 32 interviene sulle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi. Il Ministero dell'Economia ha confermato venerdì scorso la proroga dello split payment fino al 30 giugno 2023. La Commissione europea ha infatti adottato la proposta del Consiglio di concedere all'Italia, per altri tre anni, l'autorizzazione a utilizzare questo strumento, che prevede, per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, di versare l'IVA direttamente all'erario. Molto critico il presidente di Alleanza delle Cooperative, Mauro Lusetti, che ha definito il meccanismo una criticità sofferta dalle imprese. Grazie a tutti!